L'agenzia italiana del farmaco AIFA ha comunicato di aver disposto il ritiro con apposito provvedimento di un antibiotico. Nello specifico si tratta della specialità medicinale Cefixima 400 mg compresse rivestite con film della ditta Aurobindo Farma Italia SRL con sede in via San Giuseppe 102 21047 Saronno in provincia di Varese. Il ritiro da parte della ditta evidenzia Giovanni Dagata, presidente dello sportello dei diritti è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta produttrice concernente problema al confezionamento primario e dei sensi dell'articolo 70 decreto legislativo 219-200. Cefixima è utilizzato per trattare infezioni dei seni nasali, otoringola ringoiatriche, reni e delle vie urinarie e infezioni genitali. I lotti oggetto del ritiro sono i seguenti. I lotti oggetto del ritiro sono i seguenti. I lotti oggetto del ritiro sono i seguenti. Percendovo in via scuola.